osservando le cellule al microscopio con un po di fortuna prima o poi capiterà di imbattersi in una situazione come questa vedete quanta agitazione è un momento speciale questa cellula filmata proprio nei nostri laboratori si sta dividendo la parte tratteggiata in blu è il nucleo e i bastoncini indicati dalle frecce sono i cromosomi li avete riconosciuti parliamo di divisione cellulare quando una cellula dà origine a due cellule figlie identiche a quella di partenza nelle cellule eucariotiche questo processo si chiama mitosi il primo evento è proprio la formazione dei cromosomi dopo che tutto il dna è stato duplicato inizia ad avvolgersi in modo più compatto come abbiamo già visto fino a formare i bastoncelli che chiamiamo cromosomi ogni filamento di dna dà origine ad un cromosoma le due copie identiche di dna che la cellula possiede in questa particolare fase del ciclo di vita formano cromosomi identici chiamati cromatidi sono come i due calzini di uno stesso paio e sono uniti in un punto chiamato centromero appena formati i cromosomi si trovano ancora al centro della cellula l'involucro nucleare si va via via dissolvendo i cromatidi fratelli devono essere divisi tra le due cellule figlie ma come avviene questa separazione per distribuire il dna la cellula prepara il fuso mitotico una struttura temporanea che la attraversa tutta come una rete di che cosa è fatta è formata dalle stesse proteine che formano i filamenti del citoscheletro i filamenti del fuso agganciano i cromosomi a livello del centromero e li trascinano verso i poli opposti della cellula in questo modo le coppie di cromatidi si dividono per gli organelli il processo è un po diverso per esempio i mitocondri sono capaci di accrescersi e dividersi in modo che le cellule figlie ne abbiano da subito un numero adeguato l'apparato di golgi e reticolo endoplasmatico invece vengono smontati prima della mitosi e rimontati in ognuna delle cellule figlie a questo punto la cellula può davvero dividersi si forma una strozzatura che si restringe sempre di più fino a separare le due cellule figlie ecco la scena finale filmata dal nostro microscopio ma quando è che una cellula decide di dividersi sappiamo che tutti gli esseri viventi sono caratterizzati da diverse fasi del loro ciclo di vita ogni essere vivente nasce cresce si riproduce e muore bene anche le nostre cellule rispettano questo ciclo in questo momento milioni delle nostre cellule sono nella fase di riproduzione e stanno dando origine a nuove generazioni di cellule figlie la cellula passa la maggior parte della sua vita tra una divisione nell'altra in questo periodo detto interfase la cellula cresce e si prepara alla divisione cellulare in risposta a specifici messaggi diversi per ogni tipo di cellula la cellula entra nella fase di mitosi il ciclo poi riprende per tutte le cellule figlie perché la divisione cellulare è così importante prima di tutto perché ci fa crescere quando gli organismi crescono non è perché le cellule stanno diventando più grandi ma perché si dividono per produrre un numero sempre maggiore di cellule e poi perché ci consente di sostituire le cellule che muoiono e di riparare le ferite come quando ci fratturiamo un osso o ci facciamo un taglio in poco tempo tutto torna come prima grazie a nuove generazioni di cellule identiche che prendono il posto di quelle perse è per tutti questi motivi che nel corpo umano avvengono quasi 2000 miliardi di divisioni ogni giorno riassumendo la divisione cellulare è il processo di formazione di due cellule figlie da una cellula di origine le due nuove cellule sono identiche e hanno lo stesso dna la divisione cellulare fa parte del ciclo cellulare e serve alla crescita e al mantenimento degli organismi e ora possiamo goderci il meraviglioso spettacolo della mitosi riassunto in queste immagini